Il controbilancio di PD e Terramo cambia. Il 2015, anus orribilis, solo tante annunciazioni. Nuova giunta, Terramo soprattutto, non chiede poltrone, Covelli, esecutivo a 6 e soluzione ai problemi della città. Atril, Taraboccia, ricorso del comune sul punto nascita, a Stolfi andremo al Consiglio di Stato. Regione, iscrizione in un registro per le prostitute, avvia la discussione e la proposta del consigliere Bracco. Asle, Terramo, partiranno a febbraio tutti i servizi dell'unità complessa di cure primarie. Viabilità, la provincia impegna a 200 mila euro per la frana di Valle San Giovanni. Saldi, partenza, fiacca in centro storico a Terramo. Sport, Terramo, anche Moreo dopo le noci, rassicura, da qui non mi muovo. Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. In apertura la politica, annunciazioni 2010-2016, tanti annunci ma poche realizzazioni. In estrema sintesi è il contenuto della conferenza stampa del Partito Democratico e di Terramo Cambia che hanno presentato una sorta di controbilancio di fine anno dell'attività dell'amministrazione Brucchi per il capogruppo PD Gianluca D'Alberto. Il 2015 è stato un anus orribilis il servizio. Il controbilancio di fine anno del Partito Democratico di Terramo ha un tema, annunciazioni 2010-2016. Che significa? Significa che l'anno 2015 è stato, come gli anni precedenti, un totale fallimento da parte di questo centrodestra che ogni anno ripropone le stesse cose, gli stessi obiettivi ma che in realtà si traducono in incompiute. Il 2015 in particolare è stato l'annus orribilis per l'ammissione centrodestra e purtroppo hanno vagato le conseguenze di questo anno e ci tenete la mani e soprattutto le classi più deboli. Pensiamo alla vicenda disastrosa dei disabili che ha costretto per tre mesi senza servizi le categorie più debili della nostra collettività. Pensiamo alla questione dei varchi, un pasticcio amministrativo su cui tutti i dietrofronte che l'amministrazione ha cercato di fare in realtà non hanno risolto assolutamente il problema. Pensiamo a vicende assolutamente irrisolte di cui il Sindaco non fa menzione perché evidentemente si trova in una grossa difficoltà politica e amministrativa. La vicenda di Piazza Dante che è assolutamente irrisolta e non si sa quale sarà l'esito di una situazione di cui stanno pagando le conseguenze i cittadini terramani. Il Sindaco ha parlato della vicenda di Via Longo, annunciando l'annunciazione per il 2016 la risoluzione del problema. In realtà era un problema che doveva essere risolto tra il 2012 e il 2013. Oggi ancora nulla, sono state liberate le prime due palazzine ma in realtà l'esito è stato solo quello di creare disagi alle famiglie di Via Longo e a tutti i cittadini che hanno la necessità di richiedere una casa popolare e che non possono farla perché le graduatorie per l'emergenza abitativa sono state bloccate da questa amministrazione del 2012. Una scelta assolutamente scellerata, non si parla più, torniamo alle annunciazioni, del nuovo teatro, non si parla più del polo scolastico, non si parla più delle modalità di risoluzione della vicenda del teatro romano. Tutti i temi che l'amministrazione avrebbe dovuto risolvere negli anni precedenti e che non ha fatto. Gli obiettivi che il Sindaco ha posto per il 2016 sono obiettivi che fanno quasi sorridere perché lui parla di suoi obiettivi, quello del recupero dell'ex ospedale psichiatrico ma in realtà sappiamo benissimo che se si risolverà questo problema e noi stiamo lavorando fortemente con la regione per questo lo si farà solo grazie all'intervento regionale, allo stanziamento con il masterplan di 35 milioni di euro. In realtà la verità di quella conferenza stampa di fine anno è che è la dimostrazione plastica di come mai si sia esaurita la spinta del centrodestra Terramano. Ormai è una vicenda amministrativa che si sta spegnendo ma lo dimostrano anche le vicende politiche di questi giorni dove c'è solo e esclusivamente l'esigenza di conservare un assessorato o una poltrona. Non si parla più di progetti, non si parla più di politica, non è posto al centro il cittadino e la città di Terramo ma soltanto l'esigenza di un sistema di potere che vuole conservare se stessa. Restiamo in tema amministrazione comunale, vogliamo la nuova giunta a 6 ma noi non chiediamo un posto inesecutivo, bensì soluzioni per i problemi della città. Lo ribadisce Alberto Covelli, consigliere comunale di maggioranza del nuovo gruppo civico Terramo Soprattutto di cui fanno parte l'idiatore Alfonso Di Sabatino Martina e Alessia De Paulis. Vediamo. Terramo Soprattutto farà le consultazioni con il sindaco di Terramo sabato prossimo. Questa è una settimana densa di appuntamenti per cercare di arrivare a questo azzeramento o comunque a questo rimpasto di giunta. Che cosa chiederete Alberto Covelli? Noi rimarremo fermi sulle nostre posizioni che abbiamo tra l'altro già annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del gruppo di Terramo Soprattutto e quindi rimarremo fermi sul fatto che non chiederemo l'ingresso di nostri consiglieri in giunta. Quello che sicuramente faremo è la presentazione al sindaco di alcuni punti focali del programma che intendiamo poi portare nell'assise civica e sottoporre all'attenzione dell'intera maggioranza. Uno da cui non prescindere? Uno da cui non prescindere è l'ASL unica. Dovrà essere sostanzialmente un cavallo di battaglia di tutta la maggioranza e sono certo che anche la minoranza non potrà non assecondare la nostra lotta. Perché a Terramo comunque gli uffici dell'ASL rivestono una notevole importanza anche a livello occupazionale di servizi nei confronti dei cittadini. Credo che sarà un terreno di scontro perché l'ha manifestato già più volte nettamente Dodo Isabatino che è l'anima di Terramo soprattutto e cioè il numero degli assessori, dei nuovi assessori. Voi ne vorreste sei al massimo? La nostra volontà è quella di avere sei assessori in giunta. Però il numero di assessori, secondo il mio punto di vista, deve essere una prerogativa del sindaco. Se dovesse ritenere il sindaco di dover confermare il numero degli assessori è un qualcosa che legittimamente aspetta a lui. Chiaramente con un'aggiunta a sei ci troveremmo di fronte a un apparato esecutivo più snello. C'è un assessore per ogni gruppo in un'aggiunta a sei? Secondo me sì. Secondo me sì. E anche per voi? Noi assolutamente rimaniamo sulla nostra posizione. Un assessore per ogni gruppo, per quei gruppi che vogliono comunque partecipare alla formazione della giunta. Noi rimarremo fuori dalla giunta. Questo è poco ma sicuro. Un anziano di cui si erano perse le tracce da stamattina è stato rinvenuto senza vita nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne di Appignano. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Bisenti per accertare quanto accaduto i soccorritori del 118. Secondo i primi elementi, in possesso dalla forza dell'ordine, l'uomo sarebbe morto per cause naturali, molto probabilmente stroncato da un attacco cardiaco. L'allarme da parte dei familiari era scattato nella tarda mattinata quando l'uomo non era rincasato, come faceva abitualmente. Il Tar dell'Aquila ha bocciato il ricorso del comune di Atri contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale San Liberatore. La sentenza pubblicata questa mattina rigetta tutte le censure mosse dall'amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Astolfi definendo infondate quelle mosse in ordine alla presunta e erronea applicazione del criterio del numero dei parti ed inammissibili le doglianze relative all'inattendibilità delle tempistiche di attuazione del cronoprogramma ASL. Sul primo aspetto, il Tar rileva come resti irrilevante il dato relativo al 2014, anno in cui il punto nascita di Atri ha superato i 500 parti, in quanto il decreto commissereale, essendo il frutto di un'attività di studio, esame e monitoraggio, ha preso in considerazione un lasso temporale sufficientemente lungo e aggiornato per valutare il superamento della soglia numerica indicata dall'accordo Stato-Regioni del 2010, oltre al numero di sale travaglio e sale parto idonee a garantire il numero di parti prevedibili, il rispetto degli standard previsti dall'accordo del 2010 ed equilibrio territoriale dell'offerta e il bacino di utenza. Il Tar ritiene inammissibile anche gli altri profili di contestazione emossi dal Comune e relativi a carenze proibizionali del cronoprogramma operativo in merito alla terapia intensiva neonatale e al sistema di trasporto per le donne partorienti e per le neomamme. Profili che sottolinea il Tar non sono direttamente collegati alla soppressione del punto nascita di Atri perché entrambi connessi alla classificazione di secondo livello dell'ospedale di appartenenza. Il Comune farà ricorso al Consiglio di Stato. In una nota a firma del coordinatore civico di Cittadino di Abruzzo Civico, Paolo Basilico, si legge che purtroppo dobbiamo constatare che la politica che ci rappresenta in Regione non ha voluto trovare le giuste soluzioni per continuare a far funzionare un reparto delicato ed importante. Sappia il Presidente D'Alfonso che l'assessore Paolucci, che noi, non ci fermeremo qui e che continueremo la nostra battaglia ricorrendo al Consiglio di Stato pur essendo consapevoli che i tempi si allungheranno. Grazie di nuovo Presidente D'Alfonso per questo regalo che è voluto lasciare a tutti i cittadini di Atri e all'intero territorio, conclude Paolo Basilico, coordinatore cittadino di Abruzzo Civico. E adesso cambiamo completamente argomento. Prostitute regolarizzate con l'iscrizione in un apposito registro istituito dalle Camere di Commercio e quanto prevede un progetto di legge presentato dal Consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco per tutelare la salute delle prostitute, dice il Consigliere nella proposta, e sottrarle alla criminalità organizzata. Sentiamo. L'Abruzzo come Olanda e Germania, con prostitute regolarmente iscritte ad un registro e che pagano le tasse in cambio di assistenza sanitaria e fornitura di materiali, tutto ciò per la tutela della salute e per sottrarre il mercato dal controllo della criminalità. La proposta, certamente di impatto e provocatoria, è contenuta in un progetto di legge presentato nei giorni scorsi negli uffici del Consiglio regionale dal Consigliere regionale del gruppo misto ex Movimento 5 Stelle Leandro Bracco. Ora il progetto di legge deve cominciare l'iter in commissione, prima di approdare in aula, sempre che sia verificata la competenza sull'argomento della Regione. Bracco intende fare dell'Abruzzo un laboratorio di sperimentazione di un approccio non più proibizionista ma regolamentarista. Al fine, spiega nella relazione allegata al progetto di legge il Consigliere, di far emergere il fenomeno che comunque esiste al solo fine di tutelare la salute delle persone che si prostituiscono sottraendole dalle grinfie degli sfruttatori e per tutelare la loro salute e incolumità fisica. Il progetto di legge, destinato a far rumore, si compone di otto articoli. Nel primo si prevede che le Camere di Commercio istituiscano il registro regionale degli esercenti l'attività di prostituzione. L'iscrizione, che sarà gratuita mediante una semplice autocertificazione, darà diritto ad ogni esercente alla fornitura gratuita di preservativi, pillole anticoncezionali, prodotti per l'igiene, a visite mediche periodiche ed anche all'assistenza psicologica in caso di gravidanza non desiderata. La tassa viene fissata in 1.500 euro all'anno, a prescindere dai proventi percepiti, da versare entro il 30 giugno di ogni anno. Spetterà alla Regione Abruzzo l'attività di accertamento e riscossione della tassa e l'invio della diffida in caso di mancato pagamento della riscossione coattiva. I carabinieri della stazione di Sant'Egidio alla Vibrata hanno rintracciato ed arrestato su richiesta della Corte di Appello di Durazzo in Albania un 24enne albanese senza fissa dimora in Italia su cui pendeva un mandato di arresto provvisorio internazionale ed era latitante dallo scorso mese di luglio. Aldo Tuda è stato condannato a due anni di reclusione per lesioni personali gravi perché, assieme ad altri connazionali, circa due anni fa, in una discoteca di Durazzo, nel corso di una lite, aggredì con una mazza da baseball altre persone, farendone gravemente una. Quando sono arrivati i soccorsi, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Il corpo di un 43enne venezuelano era già senza vita da un po'. A trovarlo nel suo appartamento di Villa Tordinea, l'ex moglie ed altri amici. Inequivocabili i segni del decesso, l'uomo ha deciso di farla finita impiccandosi ad una trama del soffitto. Subito sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato e il personale del 118. Impossibile stabilire le cause del gesto di quest'uomo, padre di un figlio 18enne, che viveva nella frazione teramana. Il magistrato ha dato nulla osta per la sepoltura. Partiranno ai primi di febbraio tutti i servizi forniti dall'UCCP di Teramo, ovvero l'unità complessa di cure primarie, ospitato presso il distretto sanitario di base di Circonvalazione Ragusa. Per una serie di ritardi burocratici entrerà a regime solo nel mese prossimo con l'obiettivo di fornire risposte importanti ai cittadini e alleggerire il lavoro del pronto soccorso del Mazzini. Tra 20 giorni, inoltre, entrerà in funzione anche un nuovo elettromiografo che affiancherà per le analisi l'unico presente a Teramo in ospedale e che dunque potrà smaltire la lunga lista di attese. Dottor Ceci, come sta andando questa nuova struttura presso il distretto sanitario di base di Teramo, cioè l'edificio dell'Asel? Questo UCCP sta facendo buoni numeri? I numeri li farà quando sarà attivato a pieno regime l'UCCP. Come è nata questa struttura? Questa struttura è nata per abbattere i codici bianchi ospedalieri che intasano il pronto soccorso per circa il 50-60% delle prestazioni. Naturalmente questo ha svantaggio delle vere urgenze. Quindi il senso del decreto e lo spirito del decreto era proprio di far nascere queste strutture per abbattere le liste d'attese e i codici bianchi. Naturalmente noi qui doteremo, oltre che la struttura, anche di tutte le branche specialistiche annesse alla struttura, oltre ai medici di base e oltre alla continuità assistenziale. Quindi daremo un'assistenza di base per 24 ore su 24 per 7 giorni a settimana. Lei ha detto i numeri precisi di Teramo quando saranno attivate tutte le specialità. Allora, adesso cosa funziona? Se io voglio venire qui per fare una visita, quali visite posso fare? Adesso la struttura non funziona, senza noi prevediamo di aprirla a pieno regime direttamente, senza partire a piccoli passi, ma partire direttamente. E la cosa si risolverà penso entro il mese di gennaio. I primi di febbraio? I primi di febbraio, in quanto mancano ancora le attrezzature sanitarie che siamo in corso di gare di appalto. La struttura è la prima nella regione Abruzza, nella capitale di provincia, quindi la prima di una delle quattro città abruzzesi. È un fiore all'occhiello di questa direzione generale, anche la nostra, che noi l'abbiamo voluta a tutti i costi. Sicuramente per avere poi tutti i numeri che abbiamo programmato si dovrà aspettare 5-6 mesi di tempo tecnico di messa al regime, ma prevediamo che sia veramente un grande successo per l'Asile, ma soprattutto una grande utilità per tutta la popolazione di Terramano. Dentro questo scatolone c'è un macchinario importante, è così, dottor Ceci? Sì, questa è una delle attrezzature sanitarie che dotiamo all'UCCP, questo è l'elettromiografo, in cui adesso si fanno in ambiente ospedaliero, anche se di competenza distrettuale. Abbiamo una specialista che fa solo quella, la riporteremo a part-time qui all'UCCP, ed è in cui serve per abbattere le liste di attese, che attualmente siamo a 8-9-10 mesi per fare... E ce n'è solo uno in ospedale? Noi adesso, questo è già nuovo, già pronto per l'uso, appena sarà pronta la struttura, insomma, qualche piccolo ritocco, contiamo di attivarlo subito in termini relativamente brevissimi proprio. Completati i 24 progetti finanziati con i fondi PIT, che migliorano la rete di accoglienza e l'immagine turistica, storica e ambientale dei piccoli centri dell'area interna della provincia di Terramo. Vediamo. Recupero di palazzi storici, sistemazione di aree attrezzate e ostelli, interventi nei borghi di pregio, risorse per piccoli musei, centri di informazione. I progetti integrati territoriali, i PIT, hanno cambiato il cuore di molti borghi montani, aumentando il loro appello turistico. 24 opere con un investimento complessivo di circa 3 milioni e 800 mila euro di opere, finanziate in gran parte, 3 milioni di euro con i fondi dell'Europa, e per circa 800 mila euro dagli stessi comuni, che hanno deciso di investire sulla valorizzazione dei loro territori. I progetti sono stati concertati con i comuni, che hanno gestito le procedure di gara, e la provincia, che ha curato la programmazione, l'erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione. Un bel colpo d'occhio con opere, che in molti casi hanno recuperato e migliorato strutture storiche, e in altri hanno creato servizi per l'accoglienza e valorizzando luoghi di pregio ambientale, ha commentato il presidente della provincia Renzo di Sabatino. Il valore aggiunto del programma di interventi, ha detto ancora, sarà pienamente percepito con i primi arrivi turistici durante le vacanze di Pasqua, luoghi che tornano a vivere, la cui fruibilità rende possibile la progettazione di eventi e manifestazioni in una cornice decisamente più bella e apprezzabile che nel passato. Tra i progetti realizzati, appena Sant'Andrea, interventi di arredo urbano e sistemazione di sentieri turistici, a Campi il restauro dell'ex chiesa del monastero Santa Maria degli Angeli e nuova destinazione d'uso con finalità turistiche. A Canzano, lavori di recupero architettonico di Palazzo de Berardinis per la realizzazione di un museo del ricamo e opere di completamento. A Cermignano, un centro per l'accoglienza, per la promozione turistica della Torre Monumentale e del borgo di Monte Gualtieri, a Colledara, il Museo delle Arti Contadine. A Torricella sicura la valorizzazione di Villa Capuani. Potrebbe trovare soluzione il rischio o viabilità sulla strada provinciale 47 per Valle San Giovanni. Ieri sera gli amministratori provinciali e comunali del PD, su iniziativa del consigliere Maurizio Verna, hanno incontrato i residenti. L'avoragine provocata dall'alluvione di un anno fa si allarga sempre più e rischia di impedire il transito. L'impegno è quello di investire 200 mila euro negli interventi di sistemazione. I lavori potrebbero partire a primavera, nel frattempo sarà sistemato un semaforo e sarà curata la manutenzione. Ascoltiamo. Cominceranno i lavori purtroppo solo a giugno per ripristinare la viabilità e soprattutto la sicurezza. Nel tratto di strada noi abbiamo fatto un servizio qualche tempo fa che conduce a Valle San Giovanni. Sulla provinciale 47 c'è addirittura una piccola voragine, insomma un buco sulla strada. Verna, la buona notizia c'è, purtroppo cominciano a giugno però i lavori. Sì, i lavori cominciano tra maggio e giugno. Ieri sera abbiamo fatto un'assemblea a Valle San Giovanni con i cittadini, dove abbiamo annunciato che la prestazione si sta facendo, che entro marzo sarà individuata l'impresa e tra maggio e giugno i lavori verranno realizzati. Si cercherà ovviamente di anticipare il più possibile quest'opera richiesta dai cittadini. Purtroppo è una frana dell'alluvione 2015. In quell'alluvione, se non solo per le somme urgenze, non ci sono stati finanziamenti specifici, come invece per l'alluvione 2011 e quindi per confondi che la provincia ha dovuto trovare abbiamo diviato 200 mila euro per questo intervento. Abbiamo provato effettivamente a trovare altri soldi tramite altri canali prima, ma non sono stati concessi, quindi si è affrontato il problema direttamente. Speriamo che appunto il prima possibile si possa dare una risposta. Lì ieri sera i cittadini hanno chiesto anche interventi immediati per la sicurezza, quindi la provincia metterà un semaforo perché la corsia è ridotta, si farà qualcosa con delle protezioni ancora migliori, per cercare di dare risposte il prima possibile anche a quella parte di territorio. Ci sono altri interventi programmati da parte della provincia, è così? Sì, a brevissimo, adesso tempo permettendo, tra qualche giorno, qualche settimana interverremo sulla Provinciale 18 con l'Eminuccio Varano, dove ci sono due frane anche lì create qualche mese fa. Abbiamo risolto gli ultimi adempimenti con l'impresa e anche tra qualche giorno, qualche settimana, ma speriamo veramente il prima possibile, lavoreremo anche sulla Provinciale 19, che dalla Specola va poi a Poggio Cono, dove ci sono alcune frane e anche lì si interverrà a brevissimo tempo, sperando che le condizioni meteorologiche ce la consentiranno. Restiamo in qualche modo in tema strade, perché la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, ha annunciato un'interrogazione parlamentare sugli aumenti dei pedaggi delle autostrade a 24 e a 25 in vigore da inizio anno. Già un anno fa presentai un'interrogazione all'allora Ministro dei Trasporti per chiedere conto degli aumenti spropositati sulle tratti abruzzesi. Torno a riformulare una nuova interrogazione per chiarire i motivi legati a quest'ulteriore rincaro dopo quelli dell'anno precedente e quali misure il Governo intende mettere in atto per calmerare i rincari. Inoltre, aggiunge, torno a sollecitare il Governo a convocare un tavolo di confronto istituzionale a cui un anno fa l'allora Vice Ministro Nencini fece riferimento rispondendo alla mia interrogazione per rivedere sia le normative vigenti sia le stesse convenzioni con le concessionarie autostradali per una modifica anche parziale delle stesse. La pioggia non ha aiutato l'inizio dei saldi invernali. Partenza fiacca in centro storico a Teramo, ma i commercianti confidano nei prossimi giorni anche perché, ci hanno detto, i clienti non hanno acquistato durante le feste i capi importanti e quindi dovrebbero farlo ora. Vediamo. Oggi a Teramo, come in tutto l'Abruzzo, sono iniziati i saldi. Ne parliamo con una commerciante che è lungo il corso a Teramo. Come sta andando? È una giornata anche piovosa, quindi abbastanza tranquilla. Non c'è stata tanta affluenza. Abbastanza tranquilla in questo caso è un'accezione negativa, non positiva. Speriamo che nel corso della giornata le cose miglioreranno. Spero di sì. Molti dicono che è sbagliata la data di inizio dei saldi, cioè nel pieno della stagione e non a fine stagione. Lei di che parere è? Io sono del parere che i saldi iniziano troppo presto, anche perché non sono dei veri saldi. Stiamo iniziando adesso a lavorare perché ha fatto sempre bel tempo e quindi la merce pesante non è stata venduta. Sicuramente è sbagliato fare i saldi così presto. I veri saldi dovrebbero iniziare a fine febbraio, metà febbraio, almeno in quella data. Adesso siamo proprio nel clou dell'inverno per cui ancora non ci sono state delle vendite consistenti, di capi pesanti, tipo piumini, cappotti, queste cose. Prima giornata dei saldi, anche a Terram, come va? Diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, perlomeno già il tempo non ci aiuta anche in questo. Però siamo fiduciosi che ci sia un movimento, non per altro, per cercare di recuperare qualcosa che non è stato fatto un po' durante il lavoro natalizio. E saldi veri, sì, con sconti reali sulla roba in vetrina, che era in vetrina anche a Natale? Sì, saldi, diciamo, sono partiti un po' con una percentuale abbastanza importante, salvo poi qualche altro negozio che arriva anche al 50%. Mediamente? Generalmente il 30%, che è una scontistica giusta, equa un po' sui prodotti anche attuali. Perché ci auguriamo che in vetrina non ci siano mai prodotti molto, molto vecchi. Di magazzino. Assolutamente no, insomma, anche perché sarebbe deleterio, non solo per il cliente, ma anche per noi, insomma, metterli e esporli in vetrina. Ricorre in questi giorni il quattordicesimo anniversario dalla scomparsa del professor Enzo Cifaldi, giurista, pedagogo e storico rettore del convitto nazionale delfico, che diresse dal 1985 al 1995. Ad Enzo Cifaldi, per molti anni direttore nel Ministero dell'Interno degli Esteri e poi giudice di Pace, si deve l'ideazione e la progettazione a livello nazionale del liceo classico europeo e la sua istituzione anche a Teramo. Per la sua attività in campo culturale è stato insegnito della medaglia d'oro alla cultura dal Presidente della Repubblica e a Teramo, a suo nome, è stata designata la piazza di Collaterato Basso. La famiglia i terramani lo ricordano con vivo apprezzamento. Un pranzo per raccogliere fondi a favore di Casa Madre Ester di Cerni di Pineto. L'iniziativa è promossa da Lino Cifoni e parteciperanno anche i protagonisti del Capodanno di Roseto e della manifestazione, aspettando le befane. Vediamo. Come è andato il Capodanno all'Arena Quattro Palme di Roseto? Abbastanza bene. L'unico rammarico è che la gente non era molto abituata a questo tipo di evento, cioè al Capodanno in piazza, perché era la prima volta in assoluto. Per cui va un po' educata e speriamo magari il prossimo anno, se me lo fanno rifare, di farlo meglio. Tra l'altro so che invece a Teramo è andata molto molto bene. Faccio i complimenti al sindaco, all'amico sindaco, che in pochissimo tempo è riuscito a organizzare un bellissimo Capodanno. E intanto domani, a pranzo, al ristorante Recibus di Teramo, ci sarà un'iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi da destinare anche alla Casa Madre Ester di Cerni di Pineto. Sì, diciamo che sarà un evento molto importante, si chiamerà Aspettando le Befane, e le Befane sono dell'ex Miss Italia, ci sarà Nadia Bengala, ci sarà Demetra Hampton, ci sarà insomma tante altre. L'iniziativa è a fondo benefico praticamente per sponsorizzare, per aiutare due progetti. Uno che è cuore, amore ed è per aiutare i bambini indiani per costruire degli ospedali, e l'altro invece è Madre Ester di Pineto, che sicuramente i Teramani conosceranno, perché è già sponsorizzato più volte da Teleponte. Ci sarà questo pranzo da Recibus in Viale Crispi 68 a Teramo, e l'intero incasso sarà devoluto appunto a queste due iniziative. È il momento delle previsioni del tempo con Meteotaramo.it Previsioni per domani in Abruzzo. Al mattino nuvoloso con deboli piogge sulle aree montane, molto nuvoloso sulle aree litorane e collinari, neve oltre i 1600 metri. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia, tra sera e notte nuvoloso con deboli piogge, temperatura in lieve diminuzione, massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 16 e 19 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati settentrionali, mare calmo, quasi calmo, in provincia di Teramo. Al mattino nuvoloso con deboli piogge sui settori montani, nuvoloso sui settori litorane e collinari, neve oltre i 1600 metri. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia ovunque, tra sera e notte nuvoloso con deboli piogge, temperatura in lieve diminuzione, massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 13 e 16 gradi sulle coste, venti deboli o moderati nord-occidentali, mare calmo, quasi calmo. Giornata di riposo, oggi per il Teramo Calcio, i giocatori biancorossi torneranno ad allenarsi domani pomeriggio con un amichevole contro la Berretti. Il galoppo si disputerà al campo dell'Acquaviva, visto che il Bonoli si è occupato, in contemporanea ci sarà il derby di serie di Trasani-Coloia-Vezano. Il test con la squadra giovanile servirà a Vivarini per provare l'undici da opporre al Ponte Nera nella prima gara a Casalinga del 2016, prevista per sabato prossimo alle ore 15. Intanto sul mercato l'Ancona vuole Stefano Moreo, ma l'attaccante giura fedeltà al diavolo. Da qui non mi muovo il servizio. A Teramo impazza il mercato. In casa biancorossa uno dei pezzi pregiati è Stefano Moreo, seguito con insistenza dall'Ancona, ma l'attaccante milanese giura fedeltà al diavolo. Io sono tranquillo, voglio finire la mia stagione qui e cercare di fare molto meglio di quanto ho potuto dare nel giro d'andata. Quindi penso solo a ripartire bene quest'anno qua con il Teramo. Sul mercato è l'attacco il settore che ha più bisogno di interventi. Il mercato di gennaio, di riparazione, sia comunque un buon motivo per rinforzare la squadra. Certo, penso che come ogni squadra ci saranno giocatori in uscita e giocatori che arriveranno. Spero che chiunque arrivi nel mercato ci possa dare una grandissima mano per questo girone di ritorno. Intanto è già andato via Simone Calvano che nei prossimi giorni passerà ufficialmente al tutto cuoio. Ecco il pensiero di Moreo sull'ex compagno di squadra. Mi dispiace tanto perché avevamo legato molto io e Simone. Mi dispiace anche perché sono convinto delle sue potenzialità perché l'ho visto giocare un sacco di volte contro e quest'anno poi ci siamo allenati insieme quindi so che poteva dare molto a questa squadra. Peccato che è andato via ma sono sicuro che a tutto cuoio saprà rimettersi in mostra per bene. Con la fine del vecchio anno solare è tempo di bilanci personali. Ecco quello di Moreo. Sono partito abbastanza bene con prestazioni a mio avviso buone poi sono andato un po' calando e quindi vorrei ripartire migliorando tutto l'aspetto della prima punta perché comunque devo migliorare molto sui movimenti su crearmi lo spazio per poi poter fare gol. Infine un pensiero ai primi impegni ufficiali del 2016 con il Teramo atteso da un doppio turno casalingo il 9 gennaio con il Ponte d'Era una settimana più tardi con l'Ancona. C'è voglia di riscatto sia dall'ultima partita che di questo giorno è andata quindi vogliamo finirlo bene con l'ultima partita col Ponte d'Era visto che comunque qui in casa siamo belli tosti da battere visto che ancora siamo imbattuti cercheremo di fare due prestazioni all'altezza di quelle che abbiamo fatto sempre qua in casa. La partita Teramo-Ponte d'Era valevole quale ultimo turno del girone di andata è stata affidata al direttore di gara Giovanni Luciano di La Mezzaterme che sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluigi di Stefano e di Brindisi e Alessandro Cipressa di Lecce. Caos a Lanciano dove la squadra penultima nel campionato di Serie B perde pezzi. Puccino è quasi un giocatore dell'Avellino Piccolo va verso la Spezia di Ceco a Catania in partenza anche Capitano Paghera Mammarella, Marilungo, Crecco e Rozzi i tifosi sono preoccupati per l'indebolimento di una squadra che classifica la mano avrebbe bisogno di un miracolo nel girone di ritorno per salvarsi e proprio sulla situazione che si sta vivendo a Lanciano e anche sulle voci sulla cessione della società giovedì, estate e gennaio alle 12.30 presso la sala stampa dello stadio Guido Biondi la presidente Valentina Maio e la D. Guglielmo Maio otterranno una conferenza stampa intanto oggi pomeriggio Paghera dopo l'allenamento davanti ai tifosi è scoppiato in lacrime al momento del commiato nel girone F di Serie D domani pomeriggio in programma la prima gara di campionato del 2016 il match Clusi gioca al Bonolis con il derby abruzzese San Nicolò Avezzano turno molto complicato invece per il Giulianova che ospita la seconda forza del torneo il Fano per quanto riguarda le altre il Chieti va ad Agnone mentre la Miternina riceve la visita del Monticelli il servizio per le squadre di Serie D le vacanze sono già finite domani pomeriggio giorno dell'epifania le formazioni che militano nel massimo torneo di lettantistico nazionale scendono in campo per affrontare la loro prima gara del 2016 nel girone F il match Clusi si gioca al Gaetano Bonolis di Piano Daccio dove è in programma il primo derby abruzzese del nuovo anno solare quello tra San Nicolò e Avezzano sul sintetico terramano si sfidano le due compagini aprutine che meglio si sono comportate fino a questo momento i biancazzurri marsicani in classifica generale si trovano appaiati a quota 24 punti e si dividono la quinta piazza l'ultima che garantisce l'accesso nei playoff quei playoff che sono il sogno proibito anche del Chieti un Chieti chiamato a entrare almeno tra le prime 5 per evitare che la stagione diventi fallimentare per acciuffare questo obiettivo gli uomini di Donato Ronci devono vincere il più possibile e devono farlo già partire dalla trasferta in casa dell'Agnonese una partita che nasconte più insidie di quando non tica la classifica pur essendo quartultimi infatti i molisani hanno singoli di rilievo come il capocannoniere Tommaso Marolda autore di 13 gol e in generale vantano il quarto reparto offensivo più prolifico dell'intero girone in fondo poi il calendario riserva da Miterlino e Giulianova degli impegni casalinghi quasi proibitivi gli aquilani ospitano il Monticelli mentre i giallorossi se la devono vedere contro il fano degli ex terramani Borrelli e Ambrosini in attesa di rinforzi è quasi definita la trattativa con Elvis abbruscato al cospetto della seconda forza del torneo la compagine giuliese deve fare un'impresa se vuole conquistare il suo secondo risultato utile consecutivo e continuare la scalata verso una miracolosa salvezza vacanze finite anche per le squadre dell'eccellenza abruzzese domani pomeriggio infatti riprendono le ostilità con la disputa della prima di ritorno il big match è quello che mette di fronte la vastessa capolista e il pineto terzo in classifica sulle gare di domani seguiamo questo servizio domenica scorsa in eccellenza si è assegnato ufficialmente il primo trofeo della stagione la Coppa Italia-Abruzzese finita nelle mani del San Salvo che si è imposto a spese del pineto 2 a 1 in rimonta un successo che consente alla squadra di mister Rufini di accedere alla fase nazionale e di giocarsi le chance promozione negli spareggi con le vincenti di Coppa di tutte le altre regioni nel massimo torneo dilettantistico regionale quindi l'inizio del nuovo anno ha riservato gol e spettacolo ingredienti che la faranno da padrone anche nel turno di campionato dell'epifania in programma domani pomeriggio il big match della giornata è quello che vede protagonista la capolista vastese i biancorossi neocampioni d'inverno ospitano all'Aragona il pineto terza forza del torneo e una tra le candidate più serie alla qualificazione per i playoff sulla carta la partita si annuncia equilibrata e ricca di colpi di scena meno in bilico invece è il pronostico delle gare che riguardano le altre big del raggruppamento per tutte infatti ci sono avversari di medio-bassa classifica il paterno riceve la visita del Montordio il Morro d'Oro se la deve vedere con la Val di Sangro mentre il San Salvo affronta il San Buceto l'unica grande impegnata in trasferti invece è il Martin Sicuro di scena a Montesilvano sul campo del fanalino di coda del raggruppamento l'acqua e sapone scorrendo la classifica poi sembrano offrire pochi spunti di interesse Capistrello Miglianico e Alba Diaticare Natuguri Angolana due gare nelle quali si affrontano delle squadre che si trovano in una posizione di assoluta tranquillità molto più intriganti invece sono Franca Villa Celano e Torrese Cupello in queste sfide infatti ci sono in palio punti fondamentali in chiave salvezza il mercoledì calcistico ha un significato particolare soprattutto per la Torrese con i terramani che cercano una vittoria da dedicare al presidente Benito Rastelli scomparso nei giorni scorsi a causa di un grave incidente stradale adesso il basket domani mercoledì 6 gennaio turno infrasettimale nelle vari campionati di basket in Serie A2 Roseto affronterà al Pala Verde di Treviso la De Longhi Treviso la squadra di Trullo vorrebbe così rifarsi dopo la netta sconfitta subita domenica a Trieste in B domani alle 18 il Campi al Pala Borgognoni affronterà il Moza New Basket per la prima gara del girone di ritorno nella gara di andata la squadra di Millina si impose con un eloquente 64-95 la Globo Giulianova ha piazzato un nuovo colpo di mercato da Scafati arriva in lungo Ferdinando Matrone classe 95 il neo acquisto giunto per allungare le rotazioni a disposizione di Coccio Francani e già a disposizione dello staff tecnico per preparare la gara che la formazione giallorossa disputerà domani contro Porto Sant'Espidio Sant'Espidio domani alle 18.30 al palazzetto dello sport di Scafriano si disputerà il derby tutto teramano di Serie C Silver la Basketball Teramo di coach Stefano Di Francesco affronterà il Basket Teramo 2015 di coach Sandro Di Salvatore all'andata si impose il BT15 prezzi popolari per il biglietto d'ingresso solo 2 euro dopo le festività natalizie nel campionato di Serie A1 femminile di pallamano si torna a giocare domani pomeriggio in programma la quarta giornata di ritorno alle 18.30 la Globo Almax Biopta Teramo ospita la capolista Iomi Salerno alle 20.45 la Gommeur gioca contro il Casal Grande Padana a causa dell'indisponibilità dell'acqua viva entrambe le partite saranno disputate al Palazzo San Nicolò e a proposito dell'impegno della Gommeur ascoltiamo l'allenatore Teramano Serafino Labbrecciosa Archiviate le festività natalizie nel campionato di Serie A1 femminile di pallamano si torna a giocare per la Gommeur e Team Teoramo c'è subito una partita molto importante in chiave playoff quella contro il Casal Grande Padana Sì sicuramente una partita che diciamo che tutte adesso le ultime sei partite saranno delle finali per vedere se si riesce ad entrare nei primi quattro posti chiaramente Casal Grande è sesta in questo momento a sei punti da noi e quindi diventa una partita già decisiva sia per loro che per noi quindi è una partita che sicuramente è difficile sulla carta però dobbiamo provare a fare risultato Dovete far risultato anche per riallacciare il discorso con una vittoria il discorso che si era un po' interrotto in maniera brusca prima del fine di anno Sì sicuramente prima delle due partite con Nuoro e Mestrino abbiamo fatto molto bene poi niente abbiamo avuto un periodo che le cose non sono andate come dovevano andare abbiamo cercato di ragionare su questo abbiamo sbagliato due partite abbiamo sbagliato tra virgolette perché chiaramente io credo che tutte le partite di questo campionato siano difficilissime però erano due campi dove potevamo provare a fare qualcosa di più importante che sicuramente ci metteva anche in una posizione dove era difficile per le altre squadre poi raggiungerci Come avete lavorato in questa sosta e come sta la squadra? Abbiamo lavorato sempre perché abbiamo fatto tranne proprio i giorni di Natale e via dicendo abbiamo fatto sempre l'allenamento abbiamo recuperato qualche infortunio importante aspettiamo di recuperare Vicky Romeo che dovrebbe rientrare con il Casagrande adesso vediamo dovrà fare le lastre togliere la stecca e fare le lastre abbiamo lavorato bene anche perché forse le due sconfitte ci hanno riportato un pochino con più i piedi per terra Che cosa bisogna temere del Casagrande in maniera particolare? Sicuramente è una squadra che sta giocando bene sta facendo dei risultati particolari come tutte le squadre in questo campionato ecco è andata a prendersi un punto a Cassano conducendo quasi tutta la partita poi l'ultima partita anche loro hanno fatto una bruttissima partita contro Conversano in casa c'ha Furlanetto e Switz che sono i due punti di riferimento Bassi in Porta che non finisce mai di stupire è una squadra che gioca bene quindi bisogna temere un po' tutto Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione non perdete questa sera alle 21 in diretta da Pesco Costanzo l'appuntamento con a tutto campo conduce Pierluigi Vasile grazie per l'attenzione buona serata Grazie a tutti